I primi anni che abbiamo incominciato a seguirlo, con i ragazzi dei lavori estivi abbiamo incominciato a tabellarlo con le varie indicazioni dei vari itinerari dei sentieri della nostra collina. Naturalmente il più importante è questo. Nel 2000, su indicazione dell'allora assessore all'ecologia, professore della Valentina, si è pensato di coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori nella manutenzione di questo sentiero, che richiede lavoro piuttosto faticoso nel pulire erbacce, rovi e sistemare i vari muri a secco che si incontrano lungo il percorso. Naturalmente questi ragazzi durante il lavoro estivo, che normalmente si svolge il mese di giugno, quando hanno finito l'anno scolastico, devono essere seguite da persone adulte. Noi del gruppo di volontari di protezione civile li seguiamo in questi lavori estivi, anche perché del lavoro manuale ne sanno fare un po' poco e dunque si insegna loro prima roba come usare attrezzi e poi anche a conoscere un po' la collina, perché molti di questi ragazzi magari ci passano con la bicicletta, però non conoscono né il nome delle cascine né le località e dunque rimangono un po' sprovvisti di notizie. Ecco, proprio l'anno scorso, nel 2011, al gruppo che puliva la carezzuola, si è aggregata, oltre ai maschi che normalmente uso sempre, cerco sempre di avere i più robusti, perché lavorare col decespugliatore è un lavoro piuttosto pesante, difficoltoso, si è aggregata anche una ragazza e devo dire che si è comportata egregiamente lavorando tutte le mattine in modo continuo e produttivo, accatastando erbacce, rovi lungo lungo tutta la carezzuola. Un mattino durante i lavori, alle 9 del mattino abbiamo incontrato la volpe lungo il sentiero e i ragazzi, devo dire, che era la prima volta che vedevano una volpe.